Prima amichevole della Preseason per l'Avelino Basket, i bianco-verdi affronteranno la Virtus Casino questo pomeriggio. I Ciociari hanno iniziato la preparazione qualche giorno prima rispetto agli Irpini. La squadra loziale la settimana scorsa ha testato le sue ambizioni a Rieti contro la Real Sebastiani, un test utile per sgranchire le gambe e che ha visto Casino cadere con il ponteggio finale di 85-41. Nell'idea del tecnico Alessandro Grotti e del preparatore atletico Piccarillo c'è l'intenzione di avere un feedback sotto l'aspetto tecnico ma anche fisico. Qualche acciacco però tra i bianco-verdi c'è, Verazzo soffre di qualche problemino alla schiena che l'Ulgiani ha da diverso tempo. Se il test di questo pomeriggio sarà una passeggiata saranno certamente più probanti i due impegni contro Napoli di venerdì sera alle 20 al Palabarbuto e di sabato alle 20.30 in casa al Paladel Mauro. Nel test di oggi si inizieranno a definire un po' le gerarchie, Mussini nello scacchiere bianco-verde resta la prima punta, l'elemento a cui affidare i possessi decisivi. Si valuteranno le diverse conformazioni dell'organico averinese perché oltre a Sabatino e Maietti in cabina di regia lo stesso Mussini potrebbe spendere qualche minuto. Nel frattempo raggiunta quota 500 per la campagna abbonamenti come annunciato dal club attraverso un post social, si viaggia spediti verso le quota 600. Si intende raggiungere il numero di 700-800 abbonamenti venduti così da avere una base solida di spettatori ed una di fan in base a cui poter ripartire. Grazie. 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 Grazie.